Tre i mezzi coinvolti in un incidente stradale verificatosi intorno all'1.30 di questa notte ed un 18enne ferito ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio. Questo è il bilancio dello scontro avvenuto sulla statale 115 nei pressi del Bivio per Contrada Maddalusa. Il giovane RF e le sue iniziali al volante del suo motociclo Piaggio Beverly sarebbe stato travolto da un'autovettura Ford Fiesta che pochi attimi prima si era scontrata frontalmente con un furgone Ford Transit. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei poliziotti della sezione volante, il furgone sarebbe rimasto fermo sul punto d'impatto, mentre la Fiesta ha proseguito la sua corsa centrando in pieno il Centauro. Senza controllo la macchina si è fermata a circa 100 metri di distanza dal punto dello scontro. Il 18enne di Porto Empedocle, sbalzato dalla sella del mezzo a due ruote, è caduto pesantemente sull'asfalto. Trasportato con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso del nosocomio agrigentino, gli sono state riscontrate fratture, lesioni e contusioni varie. Gli agenti hanno effettuato i rilevi di rito per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La strada statale è rimasta chiusa al traffico per oltre quattro ore. Grazie. Grazie.